Ragazzi, io vi dico proprio come la vedo a un certo livello. Sì, a un certo livello sono preoccupato come voi. Da un altro punto di vista, più alto, tutto il gioco sta in questo. Loro fanno dichiarazioni per farti mettere paura. Fanno, dicono adesso diventa obbligato il vaccino, adesso facciamo questo, adesso facciamo quello. Chi si mette sulla frequenza della paura che casca nella provocazione e si è fottuto con le sue mani. Quindi praticamente o si attrae il virus o si attrae quell'obbligo che, non lo so, in qualche modo viene danneggiato, eccetera. Chi invece l'ignora proprio e rimane sulla sua frequenza di potere personale, si ricorda di essere il creatore della propria vita e che nessun altro può crearla da fuori e che può influenzarla da fuori, allora rimane immune dal virus e da tutte le altre conseguenze. Poi, sempre a questo livello, bisogna ricordarci che tutto avviene sempre per la nostra crescita spirituale. Questo è un momento in cui un sacco di gente, come con l'11 settembre, come quando succedono questi casini durante le guerre, la gente si risveglia. La gente si riavvicina alla parte spirituale, un atio si mette a pregare a Dio, insomma cambiano tante cose dentro le persone durante questi momenti di paura. E quindi noi semplicemente stiamo assistendo a quest'ultima ondata di risveglio in tutto il mondo, che secondo me forse sarà la più grande alla quale abbiamo mai assistito finora. E quindi come va va, chi si risveglia si risveglia. Noi comunque dobbiamo stare tranquilli che niente ci succede. E perché questa è una fase che serve a loro. A noi serve soltanto per vedere, per testare la nostra capacità di rimanere centrati nel nostro potere personale, che significa ricordarci sempre che siamo noi creatori. Questo secondo me è tutto.